Buonasera, fra pochissimo saremo in onda con il telegiornale che ha la sua pagina iniziale tutta dedicata ancora al caso cospito, sia sul versante più strettamente politico che sul versante di piazza. La politica. Giorgia Meloni, dopo giorni di polemiche, è intervenuta con una lettera al Corriere della Sera chiarendo che per quel che la riguarda non vede i presupposti per le dimissioni né di Del Mastro né di Donzelli, anzi chiede a tutte le forze politiche di abbassare i toni di fronte a una situazione che mantiene delle caratteristiche di pericolo anche per le iniziative potenziali degli anarchici e per la capacità in qualche maniera eversiva rispetto al nostro sistema carcerario di questo dibattito in corso sul 41bis. Durissima la replica che arriva dal PD, che è in diretta polemica con Del Mastro e Donzelli dopo gli attacchi che ha subito. Con queste parole dice Letta, il Presidente del Consiglio parla come il capo di un partito e non fa scendere quella tensione che chiede invece di vedere diminuire. E poi c'è la piazza. Oggi erano annunciate manifestazioni in tante città da parte dei sostenitori di Cospito. Ebbene a Milano c'è stato il lancio di qualche fumogeno verso il carcere di opera, a Roma qualche tensione in più, la polizia ha fermato anche tre persone, qualche tafferuglio con le forze dell'ordine, ma per il momento la situazione dell'ordine pubblico è sotto controllo. E poi naturalmente ci sono le notizie internazionali, con in primo piano sempre la guerra in Ucraina, perché è tornato a parlare l'ex presidente russo Medvedev, al quale sono affidati i messaggi più incendiari nei confronti dell'Occidente. Cosa ha detto oggi Medvedev? Ha detto senza giri di parole che se Kiev, che sta ricevendo nuove armi dagli occidentali, dovesse colpire il territorio russo, la risposta da parte di Mosca avverrebbe con l'arma nucleare. Una minaccia davvero esplicita. E mentre continua la battaglia di Bakhmut, che è in questo momento quella decisiva per il fronte in attesa di quello che potrebbe essere la grande offensiva della quale si parla da parte delle forze di Mosca, l'Europa conferma che sta per arrivare entro il 24 di febbraio il nuovo pacchetto di sanzioni, che per chi ama questa contabilità è il decimo. E poi c'è l'altro caso incendiario, quello del pallone sonda cinese, che ha provocato il rinvio, l'annullamento, pare in realtà il rinvio, solo il rinvio, della visita del segretario di Stato americano Blinken a Pechino, proprio per le tensioni che ha innescato oggi. Ha parlato Biden, ha detto ce ne occupiamo noi, lasciando intendere che quel pallone sonda che si sta dirigendo verso l'Atlantico, quando arriverà sull'oceano potrebbe essere abbattuto, evitando così i pericoli di colpire cose o persone a terra. Poi tanto altro ancora nel nostro telegiornale, dalla cronaca al Papa, alle immagini del ritorno alla vittoria di Jacobs, il campione olimpico e il campione indoor dei 60 metri. Solo 30 secondi e vi aspetto per i titoli. Sul caso Cospito, dopo giorni di polemiche, Giorgia Meloni, con una lettera al Corriere della Sera, invita tutti ad abbassare i toni e blinda del Mastro e Donzelli. Per la Premier non ci sono i presupposti per le dimissioni né del sottosegretario alla giustizia né del vicepresidente del Copasi. i suoi compagni di partito. Per il PD Meloni parla appunto da capo di una parte e così rischia di riattizzare l'incendio politico. Manifestazione degli anarchici in diverse città. Momenti di tensione a Milano, dove un gruppo di dimostrati ha lanciato sassi e fumogeni davanti al carcere di opera, dove Cospito è detenuto al 41 bis e in sciopero della fame contro il carcere duro. Nel corteo di Roma qualche tafferuglio con gli agenti che hanno fermato alcuni manifestanti. A Mosca l'ex presidente Medvedev usa di nuovo minacce molto forti sulla guerra in Ucraina, annunciando che la Russia è pronta a rispondere e a utilizzare le armi nucleari in caso di un eventuale attacco di Kiev sul suo territorio. Tutta l'Ucraina brucerà se riceverà altre armi occidentali, ha rimarcato Medvedev. Intanto l'Europa entro il 24 febbraio farà scattare il suo decimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Gli Stati Uniti potrebbero abbattere il pallone spia cinese, ce ne prenderemo cura noi, ha detto il presidente Biden, di un episodio che ha gelato i già attesi rapporti fra Washington e Pechino. La sonda continua a viaggiare, presto potrebbe trovarsi sull'Atlantico, qui i caccia potrebbero colpirla senza danno. Secondo il Pentagono, un secondo pallone starebbe sorvolando i cieli del Costa Rica. Secondo il governatore della Banca d'Italia Visco, le prospettive di crescita per l'area euro si sono deteriorate e l'alto livello dell'inflazione sta colpendo duramente le famiglie meno agiate. La BCE deve agire con prudenza, ma il rialzo dei tassi appare sostenibile anche dai conti pubblici italiani. Ottimista Confindustria, per Bonomi non esiste un rischio recessione. Di nuovo buonasera. Allora avete sentito, c'è una svolta politica sul caso cospito, perché la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri aveva glissato annunciando che entro 24 ore sarebbe arrivata la sua risposta sul caso politico di questi giorni, e ha parlato, o meglio, ha scritto una lettera al Corriere della Sera nella quale mitiga i toni della polemica, invita tutti ad abbassare il livello dello scontro, ma soprattutto dice di non vedere i presupposti per le dimissioni del sottosegretario del Mastro, del sottosegretario alla giustizia del Mastro e del vicepresidente del Copasir, Donzelli. Ma questo è di nuovo motivo di polemica, soprattutto con il PD. Invito tutti ad abbassare i toni, a partire dagli esponenti di Fratelli d'Italia, ma non ci sono i presupposti per le dimissioni richieste. La risposta di Giorgia Meloni, dopo giorni di polemiche sul caso cospito, è affidata ad una lettera al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. La presidente del Consiglio parla di una polemica controproducente, invitando tutti, a partire dai suoi, ad abbassare i toni e ad attornare ad un confronto franco ma rispettoso. Tuttavia, scrive, non ritengo vi siano in alcun modo i presupposti per le dimissioni che qualcuno ha richiesto. Non fa nomi, ma è sottinteso che restano al loro posto sia il vicepresidente del Copasir, Donzelli, il coordinatore di Fratelli d'Italia, che ha scatenato il caso mattedì scorso nell'aula di Montecitorio, accusando il PD di avere visitato cospito in carcere per sostenere la sua battaglia contro i 41 bis, sia il sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove che ha passato a Donzelli i documenti sensibili sui rapporti in carcere tra l'anarchico e i mafiosi. Documenti non coperti da segreto, come ha chiarito il ministro della giustizia, spiega Meloni, che conferma le accuse dei suoi al PD. All'origine di questo polverone c'è la visita, cospito di una qualificata rappresentanza del Partito Democratico, in un momento in cui il detenuto intensificava gli sforzi di comunicazione con l'esterno, scrive la Premier, aggiungendo che autorevolissimi esponenti DEM hanno continuato a chiedere la revoca del carcere duro per cospito, fingendo di non comprendere le implicazioni di tale scelta in termini di lotta alla criminalità organizzata. Ma ora dobbiamo stare tutti molto attenti, avverte Meloni, perché attorno a noi il clima si sta pericolosamente e velocemente surriscaldando. Un invito a non alimentare le tensioni, ma per il PD è l'opposto con la sua lettera e il rilancio continuo di accuse contro l'opposizione. Giorgia Meloni, invece di spegnerlo, l'incendio lo riattizza. Abbiamo letto le parole di un capo partito che difende i suoi oltre l'indifendibile e che per farlo rilancia polemiche strumentali e livorose contro l'opposizione, scrivono in una nota il segretario Letta e le capogruppo Malpezzi e Serracchiani. È molto grave che non senta il dovere di prendere le distanze dall'uso diffamatorio verso il PD che i suoi hanno fatto di notizie riservate. Il PD conferma la richiesta di dimissioni per Del Mastro e Donzelli, richiesta che arriva anche dal Movimento 5 Stelle. Siamo d'accordissimo sull'unità nazionale contro le intimidazioni e le minacce eversive, dice Lider Conte. Però la Meloni deve imporre ai suoi fedelissimi di dimettersi perché hanno utilizzato informazioni sensibili per aggredire una forza politica di opposizione per fini di mera lotta politica. Dalla maggioranza Salvini prova a guardare avanti. Bene l'invito ad abbassare i toni. Non mi ha appassionato il dibattito Donzelli-Serracchiani. Il governo sta lavorando bene, non c'è bisogno di scontri. Questo lo scenario politico. Oggi in realtà c'era molta attenzione e anche molta apprensione per quello che poteva accadere per le annunciate manifestazioni di anarchici e di altre sigle antagoniste in diverse città italiane a sostegno proprio di cospito. Ebbene, a Roma e a Milano, che erano i due centri più importanti di queste manifestazioni, ci sono stati alcuni incidenti. Per fortuna, al momento, niente di grave. La rete di recinzione esterna del carcere di Opera battuta dai manifestanti. Due petardi, qualche sasso. A Roma, invece, atti vandalici, barricate improvvisate e qualche carica quando nel tardo pomeriggio volano sulla polizia bottiglie e petardi. Mille dimostranti fra le due città dove più forte la protesta in questi giorni presidio davanti alla prigione in cui da lunedì scorso è detenuto Alfredo Cospito, al 41bis a Milano, dalla stessa ora a Corteo, non autorizzato a Roma, diretto non verso il centro del quadrante dei palazzi istituzionali e dello shopping, ma verso il quartiere Meticcio e Amico del Pigneto. Mobilitazione allargata anche ad altre città, Napoli, Bologna, Pisa, ma tutto sostanzialmente senza grandi sussulti se non fino a un'ora fa a Roma dove c'è più di un contatto con il reparto mobile e qualche dimostrante fermato. Ma è il sabato anarchico che per giorni ha spaventato. Prefettura e Viminale comunque si risolve finora con pochi danni. C'era grande allarme da giorni. Oggi tantissima polizia in strada a Roma, presenza massiccia di forze dell'ordine anche al carcere di opera. Tutto fila abbastanza liscio. Fino a tarda ora a Roma però si scaldano gli animi, arriva qualche scontro. Le premesse tuttavia erano peggiori. Ha prevalso la linea più soft anche perché il caso giudiziario di Alfredo Cospito non è chiuso. Si aspettano ancora la decisione del ministro Nordio sull'istanza di revoca del carcere duro presentata dal suo avvocato e l'udienza della Cassazione il 24 febbraio. Gli anarchici sanno che in questo momento non conviene a nessuno alzare troppo il tiro. Anche le azioni dell'ultima settimana sono state praticamente tutte dimostrative e poi probabilmente c'è anche un problema di numeri da far scendere in piazza. Fuori i compagni dalle galere, fuori Alfredo dal 41 bis, urlano i manifestanti. Sono gli stessi slogan scritti sugli striscioni. A opera si sparbagnano per i campi seminati e arrivano sotto la recensione più esterna sperando di poter essere sentiti dai detenuti. Due minuti di tensione, nessun contatto con la polizia che sorveglia dall'altro lato. Quando tramonta il sole è finito tutto. Potrebbe essere una delle ultime notti di cospito all'interno del penitenziario. I magistrati di sorveglianza sarebbero pronti a trasferirlo nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo in caso di un aggravamento delle sue condizioni. Lì si aprirebbe un nuovo scenario cospito in una lettera fatta avere al Dappa scritto di opporsi con tutte le sue forze ad alimentazione forzata e trattamento sanitario obbligatorio. C'è anche la diffida del suo avvocato. Come si comporteranno a quel punto il Ministero, i giudici e le autorità sanitarie? Allora, chiudiamo la pagina dedicata al caso cospito e veniamo alle notizie internazionali. La guerra in Ucraina naturalmente va avanti. ci avviciniamo al primo anno di conflitto e per esempio in questo momento c'è mezzo milione di persone senza energia elettrica a Odessa perché c'è stato un guasto provocato dai bombardamenti che sta mettendo ancora in difficoltà la rete energetica di quel paese. Ma poi ci sono le minacce forti che ancora una volta provengono da Mosca. le lancia come sempre Medvedev il predecessore alla presidenza di Putin che parla esplicitamente della possibilità di usare l'arma nucleare. Nel gioco di ruolo di Mosca Medvedev spetta quello del dottor Stranamore. Anche oggi l'ex presidente non si è smentito e ha agitato il ricorso all'arma atomica. La nostra risposta agli attacchi di Kiev in Crimea o altro luogo della Russia profonda cioè le regioni occupate sarà dura e convincente. La nostra dottrina nucleare ha detto intervistato dalla TASS consente di usare armi atomiche se qualcuno ne usa contro i nostri territori o quelli a noi alleati. Lo possiamo fare anche se sono utilizzate armi di distruzione di massa o se vengono inviati missili che possono colpire entro i nostri confini. Parole che hanno avuto una sola risposta da Kiev. Ignoratelo, sempre. Così ha twittato il consigliere presidenziale Podoliak. La legge internazionale parla chiaro possiamo liberare i nostri territori con qualsiasi mezzo la Crimea e Ucraina. Questo mentre l'Europa i cui rappresentanti sono stati due giorni a Kiev si prepara al decimo pacchetto di sanzioni entro il 24 febbraio per arginare i tentativi spesso riusciti di aggirare l'embargo. Alcune aziende turche, ad esempio hanno fornito materiale americano anche a fabbriche di armi russe. La Cina, secondo il Wall Street Journal starebbe continuando a fornire tecnologie per la navigazione e componenti per jet da combattimento ai russi. Mosca si prepara ad una nuova massiccia offensiva. Ci sarebbero 200.000 uomini schierati ai confini oltre a quelli già presenti sul terreno ucraino. In questi giorni sono stati inviati importanti rinforzi a Bakhmut dove i combattimenti non si sono mai fermati. Putin vuole tutto il Donbass entro marzo. Per questo gli alleati di Zelensky continuano a decidere velocemente per l'invio di armi. Gli USA hanno stanziato altri 2 miliardi di aiuti con i potenti nuovi missili GLS-BD e i tank Abrams non pronti però prima di diversi mesi. Dal Canada oggi sono partiti i primi Leopard 2. La Germania, in attesa dei 14 da inviare, ne potrebbe mandare 160 di tipo 1 già disponibili. Italia e Francia faranno partire il sistema antiaereo Samp-T e come si vede da queste immagini i treni di carri armati Bradley viaggiano dalla Lettonia verso l'Ucraina mentre i carristi di Kiev si stanno addestrando nel Regno Unito all'uso dei Challenger 2. L'unica flebile luce in queste giornate di Ferocia è nello scambio di prigionieri che ha riportato a casa 116 ucraini e 63 russi. E poi c'è l'altra crisi internazionale quella provocata dal pallone sonda se di pallone sonda si tratta cinese che sta sorvolando gli Stati Uniti. Questa sonda sta continuando il suo viaggio e nelle prossime ore così sostengono gli americani potrebbe trovarsi sull'oceano atlantico e lì forse sarà abbattuto. Ma un altro di questi mezzi cinesi sarebbe stato avvistato in Sud America e in questo caso Pechino dice che si tratta di sonde per monitorare il tempo il meteo ma gli Stati Uniti non ci credono e la crisi è davvero forte. Potrebbe essere abbattuto una volta raggiunte in volo le acque dell'oceano atlantico il pallone aerostatico cinese avvistato in Montana e ora diretto verso la costa della Carolina e poco fa l'autorità dell'aviazione americana ha annunciato la chiusura di tre aeroporti per iniziative di sicurezza nazionale. I resti verrebbero quindi recuperati dagli esperti americani per capire di più sul misterioso oggetto volante che sta provocando grandi tensioni tra Cina e Stati Uniti. Ce ne prenderemo cura ha detto brevemente Joe Biden rispondendo ai giornalisti su cosa la sua amministrazione voglia fare il presidente avrebbe chiesto già ieri che il pallone spia così viene definito dal Pentagono fosse buttato giù ma l'operazione veniva considerata troppo rischiosa. È noto che Washington non ha creduto alla versione cinese circa la natura civile dell'oggetto volante che secondo Pechino sarebbe finito per errore sui cieli americani sorvolando anche una base dove sono stoccati missili nucleari mentre effettuava rilevazioni meteorologiche dopo aver attraversato Pacifico, Alaska e Canada. Tra l'altro il Pentagono ha rivelato che un altro pallone sempre cinese sarebbe comparso questa volta nei cieli del Sud America sembrerebbe su Costa Rica e Venezuela. Nemmeno la lunga telefonata tra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il direttore della Commissione Affari Esteri del partito comunista cinese Wang Ji è servita a raffreddare i toni dello scontro tra Pechino e Washington già e ferricorti su numerosi dossier sensibili primo fra tutti Taiwan. Blinken oggi ha confermato la decisione di rinviare il suo viaggio in Cina proprio per questo atto irresponsabile ha detto questa chiara violazione della sovranità degli Stati Uniti e del diritto internazionale. Secondo Wang invece la Cina è un paese responsabile e Pechino non accetterà speculazioni infondate. La Cina rilancia e fa sapere di non essere tra l'altro a conoscenza di nessun annuncio ufficiale circa il viaggio di Blinken piuttosto dice il ministro degli esteri di Pechino siamo di fronte ad un pretesto per attaccare e diffamare il nostro paese. Ho già parlato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che ha sottolineato come l'inflazione morda i portafogli degli italiani e per questo va affermata anche con le iniziative della BCE che però ha chiarito devono essere prudenti ma restano sostenibili per la nostra finanza pubblica e questo è un elemento molto importante. Il governatore di Banca d'Italia Visco interviene al Forex di Milano a due giorni dal nuovo rialzo dei tassi di interesse della BCE che spaventa le imprese e agita anche il mondo della politica diviso tra chi vorrebbe una BCE più attenta al mondo del lavoro che è quello del credito to cure il suggerimento alla presidente Christine Lagarde è chiaro. L'azione restrittiva può ora proseguire con la giusta cautela valutando con attenzione le implicazioni per l'economia e le prospettive di inflazione delle misure già adottate l'indebitamento delle imprese e delle famiglie italiane rimane basso nel confronto internazionale la situazione delle imprese risente inevitabilmente degli incari energetici del rallentamento dell'attività economica dell'incremento dei tassi di interesse e di meno favorevoli condizioni di accesso al credito la capacità di rimborso dei debiti resta tuttavia alta Visco sa bene che l'inflazione dovuta anche al caro energia mette a dura prova i bilanci delle imprese e la loro resistenza sui mercati ma al tempo stesso come avete sentito fa notare come nel nostro paese la capacità di rimborso del credito resti alta non solo quella delle imprese ma anche quella dei cittadini che anche se non tutti durante la pandemia hanno risparmiato sia pur tenendo i soldi sul conto corrente questo non toglie che lo Stato debba dare una mano a chi non ce la fa in Italia la politica di bilancio può continuare a mitigare gli effetti degli incarichi dell'energia redistribuendo risorse con interventi mirati temporanei ormai è diventato uno slogan però va ripetuto e va compreso a favore delle famiglie e delle imprese più colpite bene dunque che il governo intervenga per aiutare imprese e consumatori a combattere l'inflazione ma con misure temporanee e senza scassare i conti pubblici perché a pagare il conto sarebbero le future generazioni tocca al governo adesso e alle parti sociali agire con moderazione abbiamo un'occasione dice Visco al governo i soldi del PNRR che ci consentono oltretutto di programmare investimenti ecologicamente sostenibili e che puntano sul digitale ossia sul futuro e il consueto invito alle riforme strutturali stavolta generosamente aiutate dal tesoretto europeo post pandemico un riferimento quello dell'importanza del PNRR che piace soprattutto al numero 1 di Confindustria che sulle nuvole di recessione all'orizzonte taglia corto io dice Bonomi non vedo la recessione la stiamo annunciando ma non ci sono i numeri e non la vedo siamo alla cronaca è finita alla stazione della circunvesuviana di Santa Anastasia nel napoletano la fuga di Massimiliano Sestito 52 anni affiliato all'Andrangheta una lunga condanna per l'omicidio di un carabiniere e in attesa di un nuovo pronunciamento per un secondo omicidio lunedì l'uomo aveva a mano messo il braccialetto elettronico allontanandosi così dalla casa del padre a Pero nel milanese dove stava scontando i domiciliari i carabinieri di Milano aiutati dai colleghi di Napoli lo hanno rintracciato e arrestato e adesso le ultime novità sull'inchiesta Qatargate ci sono scambi di accuse fra gli avvocati in vista di una settimana che si annuncia decisiva presumo che Andrea Cozzolino e Marc Tarabella saranno convocati presto e il rischio del resto è significativo ma questo è del tutto indipendente dalla difesa del mio cliente e non cambia la sua situazione è l'avvocato di Antonio Panzeri Laurent Canesse ad avanzare oggi l'ipotesi che i due europarlamentari a cui l'Eurocamera giovedì ha revocato l'immunità possono adesso finire in prigione a tirarli in ballo nell'inchiesta belga sul presunto sistema corruttivo per drenare denaro sporco da Qatar e Marocco per influenzare alcune decisioni politiche del Parlamento europeo sarebbe stato proprio l'ex eurodeputato Antonio Panzeri in carcere dal 9 dicembre ha iniziato a collaborare con gli inquirenti concordando la pena massima di un anno a metà febbraio l'udienza per risaminare il suo stato detentivo la posizione più a rischio è quella di Mark Tarabella Panzeri ha dichiarato agli inquirenti di avergli consegnato 120.000 euro in contanti per il suo aiuto nei dossier relativi a Qatar accuse già rimandate al mittente dall'avvocato dell'euro parlamentare belga del gruppo socialista e democratici che si è detto disponibile a farsi sentire dei PM belgi continua a proclamarsi innocente anche Eva Caili l'ex vicepresidente del Parlamento europeo ancora in carcere oggi il suo avvocato Michaelis Dimitra Copulos si è detto convinto che Antonio Panzeri dopo l'accordo da pentito abbia accusato falsamente la sua assistita puntando il dito contro il sistema della giustizia è un paradosso giuridico belga che i criminali che confessano e si pentono vengano graziati e coloro che lottano per la loro innocenza siano in prigione minando la presunzione di innocenza Eva Caili è in carcere dal 9 dicembre come Francesco Giorgi ex braccio destro di Antonio Panzeri il suo compagno e padre della figlia di due anni si è sentita tradita da lui per quei 600.000 euro trovati nella loro casa di Bruxelles soldi di cui lei dice di non sapere nulla perché mai corrotta e totalmente innocente chi ha collaborato con gli inquirenti fornendo nuovi elementi ed è uscito ieri di prigione e Nicolò Figatta la manca segretario della ONG No Peace Without Justice finita nel mirino insieme all'altra organizzazione non governativa Fight Impunity di Panzeri è stata una giornata di gravi incidenti stradali con un bilancio che è di 8 morti e una dozzina di feriti l'episodio più grave è avvenuto questa mattina Grotta Mare sul tratto marchigiano della A14 la Adriatica qui c'è stato uno scontro frontale fra un'auto e un camion nella galleria Castello dove a causa dei lavori si viaggiava su un'unica carreggiata le vittime sono un atleta disabile della nazionale paraolimpica di tennis e due dei suoi tre figli una ragazza di 13 e uno di 8 anni un terzo figlio dodicenne ferito in questo momento è ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona e ora parliamo del Papa che si trova in Sud Sudan il paese più povero del mondo e con problemi enormi di migrazioni interne di fughe a causa della guerra e di carestie naturalmente il messaggio è stato forte guardando all'istoria di Mosè che ha guidato il popolo di Dio attraverso il deserto chiediamoci che cosa significa essere ministri di Dio in una storia attraversata dalla guerra dall'odio dalla violenza dalla povertà nella seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa Papa Francesco è arrivato a Juba capitale del Sud Sudan il paese più povero del mondo su 14 milioni di abitanti oltre il 60% non ha neanche la razione alimentare minima per vivere si sopravvive con meno di un dollaro al giorno il tasso di analfabetismo è altissimo e da qui dove persiste una gravissima crisi umanitaria che il Papa rinnova l'appello alla pace c'è bisogno dell'aiuto di tanti di tutti nel paese perdura la più grande crisi di rifugiati del continente oltre 2 milioni di sfollati interni e 2,3 milioni di sud sudanesi costretti a fuggire negli stati confinanti sfollati per le razzie per i feri nella foresta ma anche per la povertà le calamità naturali l'insicurezza alimentare la malnutrizione lavoriamo per la pace tessendo e ricucendo mai tagliando o strapando seguiamo Gesù e dietro a Lui muoviamo passi comuni sulla via della pace e la preghiera ecumenica al mausoleo John Garang 50.000 persone ad accoglierlo Francesco esorta a promuovere l'unità nella pluralità di fronte a tribalismo e faziosità che in sud sudana alimentano violenze la testimonianza dell'armonia fra i credenti sia da esempio dice ci sono guerre intestine bande armate morti il Papa ringrazia l'ONU e tutti gli operatori umanitari che non si arrendono e tutti i giorni rischiano la vita per aiutare questa gente e poi un pensiero alle donne per favore proteggete rispettate valorizzate e onorate ogni donna bambina ragazza giovane adulta madre e nonna senza questo non ci sarà futuro e poi la preghiera finale insieme al Papa l'arcivescovo di Canterbury e il moderatore dell'assemblea generale della chiesa di Scozia che si sono uniti al viaggio apostolico per questo pellegrinaggio ecumenico di pace e siamo alle notizie sportive sono due le partite già giocate gli anticipi già giocati di questa giornata di campionato nel primo pomeriggio la Cremonese ha perso in casa 2 a 0 con il Lecce mentre poco fa è terminato a Roma l'incontro fra i giallorossi e l'Empoli con la Roma che ha vinto per 2 a 0 ma gli occhi oggi erano puntati sull'atletica meno di un mese dall'inizio degli europei in Dora e Istanbul tornava a correre Marcel Jacobs è stato un debutto stagionale vincente quello di Marcel Jacobs ma senza dubbio non soddisfacente per un perfezionista come lui battere con il tempo di 6 secondi e 57 centesimi una concorrenza non esattamente stellare è l'inizio di un percorso ancora lungo c'è da lavorare ha ammesso il campione olimpico a fine gara qualche frazione di secondo l'ha persa nei primi 10 metri per poi guadagnare terreno nel finale pur con una frequenza di passi lontana da quella ottimale nella semifinale Marcel aveva badato soprattutto a togliersi quella ruggine invernale che lo poteva rallentare dopo oltre 5 mesi trascorsi lontano dalle gare reazione allo sparo di 187 millesimi non fulminea anche a causa della falsa partenza del suo vicino di corsia poi si è rivisto il jacobs di sempre in grado di chiudere in 6 e 61 il primo obiettivo importante della stagione è ormai vicinissimo agli europei al coperto di istambul in programma dal 2 al 5 marzo e il clou è a fine agosto i mondiali a Budapest dopo di noi c'è in onda gli ospiti Concita De Gregorio e David Parenzo di questa sera sono Ilaria Cucchi Massimo Giannini Luigi Manconi e Pietro Senaldi ci fermiamo solo qualche istante Allora un aggiornamento c'è l'agenzia Italia Lagi ha battuto un flash che dice che il presidente degli Stati Uniti Biden come si pensava ha ordinato l'abbattimento del pallone spia cinese è tutto per questa sera vi lascio in onda buon proseguimento noi ci vediamo domani arrivederci grazie